Travolto da un'automobile mentre era in sella la sua bicicletta, sono gravi le condizioni di un dodicenne coinvolto in un incidente questa mattina, poco dopo le otto, a Sartirana, frazione di Merate, nella Brianza Lecchese. Il giovane stava percorrendo con la sua mountain bike la discesa di via Cavour nel centro del rione diretto verso l'oratorio. Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri intervenuti sul posto insieme alla polizia locale, l'adolescente si è scontrato con una Mercedes classe B condotta da una donna. Un impatto violento. Il dodicenne è stato sbalzato sull'asfalto, ad attutire il colpo solo il caschetto protettivo che fortunatamente indossava. Le lesioni riportate sono subito apparse serie. Sul posto sono giunte prima l'automedica della REU e un'ambulanza della Croce Bianca di Merate, poi l'elisoccorso proveniente da Milano. A lungo i medici del 118 hanno operato per stabilizzare il dodicenne, sotto gli occhi disperati dei genitori giunti dopo pochi minuti sul luogo dell'incidente, prima che venisse trasportato in elicottero all'ospedale di Varese, dove è presente il reparto di neurochirurgia pediatrica. Il giovane è ricoverato in prognosi riservata.